Fai un passo avanti e prova Tecno Brush di Allegrini. Shampoo multifunzione per spazzoloni. Migliora visibilmente la fase di asciugatura di portali e tunnel. Garantisce una lucentezza superiore. Assicura la massima resa su tutti i tipi di spazzoli. Predispone la carrozzeria alla fase di ceratura. Fornisce un eccezionale effetto idrorepellente. Tecno Brush di Allegrini. Ci piace immaginare, ma preferiamo andare oltre. Per info e ordini www.allegrini.com Soluzioni concrete per il tuo business a quattro ruote. Grazie. 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 Grazie.